Tra i 114 comuni coinvolti dal voto per le amministrative, 28 presentavano un solo candidato alla carica di sindaco, a cui per essere eletti era sufficiente raggiungere il quorum del 40% dei votanti e il 50% di voti validi. La maggioranza di questi comuni è in Friuli, tranne Fara di Sonzo e Mossa, con Stefano Turchetto ed Emanuele Russian. Esultano dunque eletti Adamaro, Cristiana Mainardi, Sadampezzo, Michele Benedetti, Butrio, Eliano Bassica, Sacco, Ornella Baiutti, Cavasso Nuovo, Michele Bier, Cercivento, Enrico Della Pietra, Chiusaforte, Fabrizio Fuccaro, Corno di Rosazzo, Daniele Muschioni, Flaibano Alessandro Pandolfo, Forni a Voltri Fulvio Sluga, Forni di Sotto Claudio Coradazzi, Malborghetto Valbruna Boris Preschern, Morsano Altagliamento Elena Maiolla, Prato Carnico Edica Gonano, Prepotto Maria Clara Forti, Ravascletto Hermes De Crignis, Raveo Daniele Aris, Remanzacco Daniela Briz, Resia Anna Micelli, Rive D'Arcano Gabriele Contardo, San Giovanni Alnatisone, Carlo Pali, Santa Maria La Longa, Fabio Pettenà, Sapada Alessandro De Zordo, Socchieve Coriglio Zanier, Tramonti di Sotto Giampaolo Bidoli e Trasagis Stefania Pisu.